Nel nostro video di oggi, sveleremo la vera identità di Matteo, il giovane campione del popolare programma, L'Eredità. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. Il game show, L'Eredità, trasmesso su Rai 1 e condotto da Marco Liorni, ha conquistato il cuore del pubblico italiano con la sua formula divertente. I concorrenti si sfidano per raggiungere la fase finale della ghigliottina, dove devono indovinare una parola finale collegata ad altre parole, dimostrando una buona conoscenza della lingua italiana. Matteo, il nuovo campione, ha impressionato con la sua notevole preparazione, superando avversari e raggiungendo la ghigliottina nell'ultima puntata. Partendo da un monte premi di 60.000 euro, ha affrontato sfide e ostacoli, giocando infine per 20.000 euro. Nonostante la riflessione sulla parola finale, non è riuscito a portare a casa il premio. In una delle ultime puntate, Marco Liorni ha scherzosamente paragonato Matteo a due celebrità, Harry Potter e il pilota di Formula 1 Charles Leclerc. Questo confronto, confermato anche dal pubblico, ha suscitato curiosità intorno a Matteo, oltrepassando la semplice somiglianza. La partecipazione di Matteo a, l'eredità, e il suo confronto con personaggi famosi hanno aggiunto un tocco di svago al programma, alleviando la tensione della possibilità di vincere una somma considerevole. E tu, cosa pensi di Matteo? Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e inoltre vi ricordiamo un piccolo supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lasciate un mi piace al video. Grazie mille.